grazie grazie stavi dicendo stavi dicendo se noi disattiviamo la leva possiamo fermare la patata l'hopper finalmente l'hopper finalmente potrà 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 fermarsi e quindi cos'è il genere allora aspetta andiamo a prendere altre patate così proviamo e possiamo porco dio ma porco dio ma perchè mi spavento ma ho 20 anni ma perchè mi spavento tutte le volte per sto mostro di merda ma non è possibile ma per sistemare ma per ma per ma per ma per ma per c'è un demone e sappiamo forse che demone chissà che c'è un demone c'è un demone veramente c'è un demone veramente ok facciamo qualcosa lasso destro ora qui direi di evocare anche il weeder non abbiamo scelta dobbiamo per forza farlo in questo modo sarò sincero cioè mi piacerebbe tipo non lo so raga perché poi tra parenti è brutto poi c'è minchia ci nasce il fio con tre occhi però non lo so c'è un po' è cari è bella bella è bella cioè è proprio bella minchia qui c'è un culo minchia gigante però boh non lo so no dai raki non si dice non si dice andiamo c'è un elicottero c'è il telefono fatto una buona azione in merito alla promozione signore no in realtà hai fatto una cazzata ma che? scusi scusi non lo sapevo ma cioè magari ero attivo no no scusi 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 no clippate mi prego clippate scusi signore scusi 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 abbasso la testa abbasso mannaggia zio attenziate vabbò attenziate ogni settimana le facciamo ads e non le vogliono spendere arancini che ho detto? che cazzo mi guardi? che sono diventato Ibrahimovic? il vostro puffo preferito il vostro puffetto preferito poi figa c'è pure la fronte bianca sono un alieno sono una cosa è sta roba cosa mi rappresenta? cosa mi rappresenta? allora eh è iniziato tutto due settimane fa circa quando quando me so fumato un mega cannone lo riarriccate sta roba vi prego farei clip mandate su telegram in privato a qualcuno o a me ma che poi un occhio non lo so dovrei parlare bene nel senso che domani tipo dopo domani non lo so quando ma in sti giorni teoricamente dovrei avere un mezzo contatto eeeh boh mi piacerebbe avere un network sinceramente tutta zanzara di merda l'abominem l'abominem l'abominemole ma come cazzo se dice abominemole abominemole tigre delle nevi chi è? ok poi e poi si restringe pure eh a me le cose mosci non piacciono a me non piacciono le cose mosci cioè a me piacciono se devo metterlo in bocca e sentire proprio du questa stazione dispenselatrice vai pushiamo sti blue allora vai presi i blocchi arrivo così super agro vai ci sto nooo 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 non ci credo non ci credo brutta mappa di merda con l'olio ho perso tutto non ci sto credo che sto le scimmie hanno messo le scimmie what? da quando? non ci credo